Il 2021 del rugby Lucca si è chiuso in bellezza grazie alla bella e sofferta vittoria sul campo del Rufus San Vincenzo, arrivata al termine di una partita combattutissima. È raro nel rugby assistere ad uno spettacolo del genere, con la gara che si è protratta oltre il tempo regolamentare prima di concludersi sul 20-16 per la compagine lucchese. Supplementari che si sono resi necessari, visto che la partita era di fatto una semifinale, per decidere chi tra le due contendenti si sarebbe aggiudicato il diritto di giocare lo spareggio per il quinto posto del campionato di Serie C. E pensare che la partita era iniziata in salita per Lucca costretta, negli 80 minuti regolamentari, ad inseguire spesso i padroni di casa, ma rimanendo a contatto nel punteggio grazie a due calci piazzati di Bogliolo. In realtà, pochi minuti dalla fine, il Rufus sembrava avere la vittoria in tasca, ma segnare la meta del pareggio è arrivata una bella azione di Marzone relativa a trasformazione di Garofalo. Il Rufus tornava comunque in vantaggio nei supplementari, ma a tempo praticamente scaduto, Fornai segnava la meta decisiva, trasformata ancora da Garofalo, che con un ottimo calcio fissava il punteggio finale sul 20-16. Un successo che significa per il rugby Lucca la possibilità di giocarsi contro il Pistoia alla finale per il quinto posto, che era fissata per il 16 gennaio a Pistoia, appunto, ma che non si giocherà. Anche sul mondo della palla ovale incombe minacciosa più che mai l'ombra della pandemia e del Covid, tanto che tutta l'attività slitta a fine gennaio, comprese anche i campionati giovanili. Dunque, anche di questa finale Lucca-Pistoia se ne riparlerà solo più avanti.